Il contenuto di questo messaggio 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 Gli italiani verranno ridotti in miseria I loro terreni e le loro proprietà immobiliari Saranno confiscati per pagare i debiti creati in maniera artificiosa E gli italiani saranno per sempre annientati Distruggi questo messaggio La sicurezza di ciò che è familiare La tranquillità della ripetizione Porca vacca